Siamo a 21esima domenica del tempo ordinario, le reddiche di questa domenica ci pongono inanzi a un tema duplice, ben preciso, che è dato dalle parole conclusive con cui Gesù risponde alla diatriba che si era generata tra gli apostoli, originata da questa mania di grandezza di Zebereo e da una reazione linea degli altri, ma questi che si credono di essere. Ecco, Gesù pone via la discussione dicendo, attenzione, io non sono venuto su una terra per essere un nuovo dominatore, a opprimere un prossimo o a fare il grado, sono venuto per servire e dare la vita e riscatto per molti. Ecco, le due parole chiave con cui Gesù gli chiede al suo ministero sono queste, servire e dare la vita. Ecco, questa prima ovelia, questa prevestiva, con voi, io vorrei approfondire il secondo aspetto, dare la propria vita e riscatto, riprendendo alcune splendide parole della prima lettura tratta dal quarto canto del servo di Iavese. In questa lettura si legge sorennemente nella Chiesa, sapete quando? Il nome di Santo, cioè il giorno in cui si parla e si celebra la passione e la morte di Gesù, perché Gesù non ha dato un amico e riscatto così tanto per dire, Gesù lo ha fatto sul serio, quindi sempre la nostra vita vale tanto quanto siamo capaci di volgersi seriamente verso il crocevisso. Rileggo con voi, brevemente commentando perché è molto chiaro, quando riascoltiamo queste cose dobbiamo pensare che Gesù si pone come esempio per noi, quindi per essere suoi discepoli noi dobbiamo entrare in questa logica del servire e di dare la vita e riscatto per gli altri. ci metto di mezzo della vita io, quindi non faccio fuori gli altri, capite? Con le parole, con i fatti, ma mi faccio, cioè immoro io, c'è questo spirito profondamente cristiano che è proprio lo spirito di immorazione, il dare e il darsi per il bene del prossimo. Gesù, allora, la prima lettura brevissima è di queste parole, al Signore è piaciuto prostrarlo con rumore, prostrarre chi? Il suo senso, questa parola si è compiuta in Gesù, è piaciuto prostrarlo con rumore. Adesso, proviamo a pensare intensamente, dice ad un certo punto la lettera degli ebrei, di per me, non più, non staccio. Cosa ha fatto Gesù mentre viveva il tormento della sua passione e cosa facciamo noi quando soffriamo qualcosa? Come ha reagito Gesù dinanzi a lui, non è la sua nascita, passate, ha cominciato a dire al padre, scusami, ma io sarei il figlio d'uomo. mica non sono adattato così scusa padre ma io sarei innocente non ho fatto niente di male non me lo merito no e se avesse fatto così sarebbe stata la fine e è stato prostrato chi di noi mettendosi davanti al procedo può dire scusa signore mio tu non lo sai fai con il significato ma non so io quando finirà se stesso il servizio di liberazione vedrà la discendenza vivrà lungo attenzione si compirà in mezzo su la volontà del signore attenzione per vedere una discendenza qual è la discendenza di Gesù chi è la discendenza di Gesù secondo noi ecco una piccola parte della discendenza di Gesù perché senza quello noi oggi lo staremo a dire noi siamo qui perché siamo stati battezzati ma il battesimo cosa diciamo da poco nel credo professo un solo battesimo per la remissione dei peccati e come è arrivata la remissione dei peccati a noi attraverso il servizio di iscrizione del figlio di Dio quindi la discendenza dei suoi figli Gesù ha vista perché è morto in croce e se non fosse morto in croce noi qui non ci staremmo allora capite Gesù mentre soffriva perché soffriva volentieri perché non guardava l'atrocità delle sue sofferenze ma guardava loro e guardate che ci guardavano metaforicamente perché Gesù aveva un intelletto divino quindi mentre soffriva vedeva le facce nostre individuali e non solo le nostre di una cinquantina di persone che siamo in questa chiesa ma tutte le facce di tutti i convertiti di tutti i cristiani cattolici di tutti i redenti e salvanti di tutto il corso della storia e lo sapeva che se non avesse bevuto fine e fu dice il mangelo del canice noi oggi non spariamo capite? e si colmirà per mezzo su attenzione la volontà del Signore quindi la croce la sofferenza e la morte quella di Gesù era la volontà del Signore o no? sì non perché il Signore volesse che il figlio soffriva in quel modo orrendo ma perché da quella sofferenza derivata il nostro bene allora capita subito una cosa attenzione questo dobbiamo mettercelo sapete papà Francesco non ha mettercelo una domanda abbiamo visto una cosa importante sei fermo e sei sempre così questo metterebbe rompere in testa con la sua cucinità quindi attenzione a quello che sto per dicendo a lei per dire se mettiamocelo bene in testa e se lo mettiamo in testa è meglio quando si bussa sofferenza la sofferenza alla porta della nostra vita si compie in ora la volontà del Signore capite? perché il Signore non permetterebbe mai che sofferenza sofferenza bussasse la porta della nostra vita se non per il nostro bene quindi lamentarsi può cominciare a chiedere al Signore perché l'altro giorno leggevo un'ordinazione bellissima sapete cosa ha detto una una santa prima che lui è in corso il processo di verificazione ha detto la parola perché Signore si trova scritta a carattere di cubitare dell'inferno mettiamocelo bene in testa al Signore non si chiede perché perché lo sa lui perché ha i nostri perché della risposta quando siamo morti qui noi dobbiamo dargli il credito è un atto di fede che facciamo che se bussa sofferenza per il flugno usiamo i scegli un senso grosso ci sta e noi se non siamo capaci di amare una sofferenza con i battisanti quantomeno l'accettiamo con spirito che stiamo all'assegnazione altrimenti usiamo i scegli di Gesù ancora dopo il suo intimo tormento abbiamo già quasi finito vedrà la luce che si sazierà della sua conoscenza Gesù è risolto sì ma come c'è arrivato alla risurrezione passando attraverso la passione e l'amore quindi noi vorremmo a noi ci piacerebbe che fosse sempre domenica che fosse sempre Pasqua ci piacerebbe che arrivassi il giorno di Pasqua senza la Quaresma senza la Settimana Santa e senza il Venerdì Santo le cose non funzionano così Pasqua arriva arriverà anche per noi a Pasqua arriva con il coronamento dei giochi di santo di santo e poi di santo quindi noi non siamo senza speranza quando bussa sorella sofferenza noi crediamo che questa il Signore la permette per un bene maggiore e sappiamo che dopo sorella sofferenza c'è la gioia di Pasqua sempre questa è una è una legge per noi cristiani l'importante è che capite il mistero Pasquale è una unità integrale ancora il giusto no serve perché vivere a molti e gli si addosserà la loro iniquità attenzione questa è un'ultima cosa cosa ha fatto Gesù guardate che Gesù ha sofferto addossandosi quindi facendosi carico di colpe non sue chi di noi è più capace di fare questo qualche santo voi sapete la storia di San Domenico sangue i santi ci stavano mettere sotto terra quello era un ragazzino sapete che è successo una volta una volta un muovillaccio della sua classe aveva riempito la stufa si cremava di freddo con le palle di neri e quindi aveva fulminato tutta quanta la scuola quando è arrivato la professore ha risultato sperato chi è stato a fare questo altri muovillacci hanno puntato il dito è stato Domenico ha mi colpato a lui e cosa ha fatto su Domenico Sacco non ha risposto no è stato zitto si è preso il castigo si è preso la punizione si è preso il disonore davanti al professore dice ah Domenico Sacco mi meraviglio di te sembravi tanto un bravo ragazzo che mette a fare queste cose lui zitto non ha aperto bocca poi gli ho detto di noi sarebbe stato valace qualche giorno dopo il professore ha saputo la verità perché gli hanno detto se lo guarda non è stato che gli hanno detto che gli hanno detto che la peste è l'indirizio professore il nome di Anto Domenico ha detto scusa ma perché non mi hai detto che non eri stato tu no perché il mio signore Gesù è stato appisodio che sto a me e io sono suo discepolo perché dovevo discolparmi io se non sei discolpato Gesù prima cosa seconda cosa quel mio amico è un discolo a una peste se gli avessero dato la colpa lui lo cacciavano dalla scuola non sarebbe tornato più invece se se mi date la colpa ma è da un piccolo plastico non lo avrete cacciato dalla scuola perché io sono bravo ha capito compagni santi e noi dobbiamo prendere esempio calore ecco allora non siamo capaci di addossarci le colpe degli altri pazienza abbiamo cani uguali nei monti una domanda però noi siamo capaci di addossarci le colpe nostre o è sempre colpa degli altri almeno noi siamo capaci di addossarci allora io vi raccomando non voglio i cani sapete quella è una cosa che dobbiamo utilizzare per fare bene anche io continuare a imparare a fare bene è imparare a confessarci è avere il coraggio e io adesso in settimana mi cominciamo a rimettere in giro ci sono sul bar una buona stampa ci sono degli obuscoli guida per una buona professione noi dobbiamo imparare ad entrare nella nostra coscienza perché siamo sempre molto facili a portare l'uno sugli altri ma dobbiamo imparare a portare su noi stessi ripeto il nostro signore non ci chiede per ora l'erolismo di addossarci nei colpi attori ma l'umiltà di addossarci alle nostre colpi sì perché la professione ha un sacramento importantissimo io quest'anno non è tanto tutti voi troverete anche come vedete sul bollettino approfondire il bene come celebrare il bene due sacramenti importantissimi che si possono ripetere che sono la penitenza e le eucaristie i sacramenti bisogna imparare a più per l'impegno non in maniera mia madre diceva alla carluna all'acqua di rovo superficiale perché se non li celebriamo bene ne praticamente quasi da tutto valibichiamo l'effetto se tu ti fai la comunione malamente non ti fa quasi niente la comunione se ti confesso superficialmente dici tre cose o magari ti fai una chiacchierata oppure ti fai un sforzo quella professione non serve quasi a niente invece se ti fai una bella comunione preparata con le disposizioni interiore esteri quella comunione diventa tanto se fai una bella confessione fatta bene addossandoli bene nel tuo corpo in mente senza soddificarti mettendoti proprio a un uomo di canzi all'obbligatina misericola tutto il confessionale ci è trasformato ci è la persona moda ecco quindi piano piano dobbiamo imparare alzano tutti perché se vogliamo dare un svolto alla nostra vita interiore la prima cosa è rimparare e usare bene i sacramenti che sono a nostra disposizione soprattutto tutti che si trasformate chiediamo un uomo che ci accompagna con l'inizio di questo nuovo anno pastorale il cammino che ci attende e che ci aiuti sempre a guardare all'esempio di Gesù e all'esempio dei Santi per capire sempre bene come comportarci e come orientarci sono esempi alti non ci si arriva dal giorno domani l'importante è mettersi in cammino e avere sempre chiara la nostra meta siamo donati Gesù e Maria sempre grazie grazie a tutti grazie a tutti